La caccia in Croazia è chiusa. Allora, cosa sta succedendo? Chi sta spargendo queste voci? Perché in Croazia per adesso funziona tutto normalmente riguardo la caccia. La stagione della becaccia è aperta, quindi ognuno chi vuole venire, chi ha già delle riserve, chi ha già fatto le quote, chi deve fare le quote, chi vuole venire da me a caccia può venire tranquillamente. Quindi ragazzi, non preoccupatevi. Appena o se ci sarà qualsiasi novità riguardo la caccia o così drastiche notizie, ve le farò sapere in tempo. Non è che dovete chiamarmi e chiedermi, ve lo dirò in tempo. Comunque dai, la stagione è iniziata. Io ancora un po' aspetto, perché c'è ancora troppa foglia e quindi adesso pian pianino mi sto preparando anch'io. Un po' di lavoro che sta in mezzo, però dai, appena posso vado e sarete aggiornati. E chiunque vuole venire per la caccia, la becaccia in Croazia, mi faccio sapere. Ciao ragazzi, in bocca al lupo.